All guys ma non possiamo dire la lettera z amici questa cosa sarà molto difficile forse l'ho appena detta no però non vale ora vale Ciao Quello la non valeva cioè no infatti sarebbe stato molto irreale e illogico e strano però adesso Possiamo stare sicuramente attenti a non dire la lettera z ma anche a vincere perché dobbiamo vincere perché sennò qua E' di nuovo detta ma davvero Non dire che l'ho detta però scusa se no che non stai dalla mia parola vabbè allora non posso più dirla ok da ora in poi Sentite ditemene nei commenti le cose che io dico ok va bene perché così di obbili Così io posso appunto aiutare a non farlo ma che cazzo Oh sto continuando a cadere è tutta colpa tua Mario cioè Non lo so a caso cioè nel senso è colpa tua comunque No dai Non ci posso credere non sto sopportando questo gioco Veramente cioè è proprio la mia nemesi questo gioco Vai salta ok Ok dai ce la possiamo fare Mario tranquillo non ti preoccupare ti prego salta ti prego salta ti prego perché non salta Allora ricordiamoci di non dire quella lettera lì perché è sempre molto È brutta è brutta non si può dire Sì 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 bruttissima anche perché poi si può dire per esempio Puccherò quella cosa buonissima che inizia con la con quella lettera lì e che non si può dire che però tutti quanti mangiano perché buona Infatti stati attenti però allo cucchero Ok bravo 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 ok bene 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 salta Sei l'ultimo ce l'hai fatta? Sì ce l'ho fatta Ma grande è benissimo Adesso però passiamo alla prossima modalità Allora siamo in un circuito frigorifero a quanto ci dice Fall Guys È veramente stranissimo come Sì è vero è verissimo Cioè scrivetemi nei commenti se voi sudate quest'estate oppure no perché io sto sudando Mamma come boh una fontana che fa uscire proprio tutta l'acqua Uguale identico 40 gradi fuori Eh appunto eh cioè che schifo Alza il volume nella te... Eh no ecco ecco cosa c'ha la... 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 quella lettera lì Cioè dobbiamo stare attenti a quella lettera lì Comunque è fighissimo sto frigorifero qua in cui siamo qua Ai 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 È vero l'hai detto Eh lo... Ma dai ma sei appena reso conto Io non ci posso credere Eh vabbè ho bisogno di tempo Sì aiuto No no è impossibile è impossibile come si fa come si fa sto gioco Ma poi ci sono sti idioti che non si spostano Amici scusate se vi sto insultando Però veramente non si stanno spostando Salda Dai vai Madonna quanto odio No davvero non se lo meritano E mi raccomando non facciamoli vincere eh Non facciamoli minimamente vincere Dove sei ti vedo Ok sì mi vedi sto saltando come un pazzo raga non so cosa sto facendo No mio dio la lettera... ho detto di nuovo quella lettera lì è impossibile E' impossibile raga cioè come si fa a non dire quella lettera lì mentre si gioca Oh guys Eh? Eh a parte che c'è pure una parola... Vento Scusate che parola c'è che non ho sentito Eh niente Non si può dire No non mi qualifico mi sa No come non ti qualifichi? Non riesco a passare Eh niente Vabbè Significa che dovrò... dovrò continuare io amici Allora amici questa qua è quanto bella tanto difficile Quindi sarà abbastanza complicata da gestire Io spero di farcela nel caso... non so... mettetemi tante cose fortunate nei commenti perché... Ok Non la posso fare Eh non la puoi fare ma perché sei stato... aia... squalificato Ha 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 Sono scarsone Sono scarsone Dai che... cioè allora mi ricordo elementari quando facevo così scusate non lo faccio più Che poi no io non lo facevo elementari erano tipo i miei amici antipatici che lo facevano ti giuro io non li sopportavo Raga scrivetemi se è elementari Anche voi alza il volume che cosa stai dicendo Ah ti ha preso Dai che pizza Ah mio dio andiamo alla prossima Adesso senza dire la lettera... sempre Z perché ho fallito venti volte a dirla Adesso proviamo a non ridirla Iniziamo senza dire questa volta quella parola... quella lettera Amici dobbiamo stare attentissimi però a non dirla Ci sono le lame rotanti qua Infatti stiamo attenti alle lame rotanti Io ho visto che tu comunque stavi un attimo sbaragliando Che cascita stavi dicendo? Stavi tipo parlando in uccellese Che è la lingua classica di Bri... Vabbè dai scusate Bri Lafè è un amico che gioca qua con noi su... anche su youtube abbiamo fatto dei video con lui Però non parla purtroppo Eh perché ha la voce brutta Sì 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 no vabbè per ora non parla poi magari parlerà comunque in futuro Quando si sistemerà quella voce lì Comunque qua ci sono le pedane che stanno saltando su e giù Ma hai visto ma quanto sono fortu... Cioè raga ma sono diventato fortissimo di sto gioco E peraltro io vi ricordo che sto pure parlando E stiamo aspettando questo livello delle porte Dipende se sei fortunato oppure no Qua c'entra davvero tanto la fortuna perché... Tutta fortuna qua Alza Il volume... no ho detto io quella parola Hai detto quella parola Ti sto odiando è per colpa tua poi perché non ha lì E devi alare ok E' stranissimo non dover dire la parola E salta bene Ci siamo Sì assolutamente Soprattutto a prendere le porte in faccia Quello ci siamo sempre Però intanto a prendere le porte che scorrevo lì Poi c'è uno che continua a prendere la porta giusta Ma come fa certa gente proprio scurata Vabbè si può dire Ancora di nuovo Ho pensato di aver detto una parola Mi hai fatto cagare addosso di nuovo Non farmi cagare addosso Comunque c'è uno con una schiena fighissima La voglio anch'io Adesso gliela rubo Tutto rilassato Raggiunto la qualificazione Se devi passare passa Sì sì sono passato C'è un draghetto che sta correndo Che poi tecnicamente questo Arriviamo abbastanza velocemente alla fine Perfetto abbiamo finito C'è uno che si chiamava Baguette Warrior È un magico quello Ciao ti saluto Baguette Warrior E partiamo con i cannoni giganti Stiamo attenti a non cadere Mi raccomando Ho appena sbalato un Saturno Ecco bene Basta che non prendiamo questi Saturno Io mi devo straconcentrare per questi cannoni Perché ovviamente io non so Non è che sia molto bravo a fare questo gioco Eh quanti Saturni raga aiuto Attenzione Mi è caduta una calamita in bocca Oh no e sei caduto nella melma No no sono ancora vivo Ok ok perché sennò diventi tu la melma Mi stava prendendo Stavo per cadere nella melma Sì aiuto C'è una stella che mi va addosso Oh basta E sono io mi sa Oh non sono io Oh bene Sono felicissimo perché è la prima volta che non ho morto Non si dice non ho morto ma Non ho morto Senti stai zitto perché tu non sai nemmeno dire due parole E io so dire non ho morto Ok Ti consiglio quando arriva la ventola Non cercare di andare verso in alto Vai dritto te Ok andremo dritti quando arriverà la ventola Anche se io non lo so fare questo perché Eh Io ho già preso il palo Eh anch'io ho preso il palo Porca miseria Aiuto Madonna mia Raga aiuto Come qualificazione Assurdo Assurdo Ma seriamente? Sono morti tutti Oh mio dio Ma scusa aspetta un attimo C'è nel senso Manchiamo chi è Cioè tu sei vivo? Sì ci sono Ok quindi siamo veramente in pochi Che ansia raga vediamo un attimo se vince Non è la finale Eh non lo so Però vediamo un attimo quale mappa arriva Intanto vi ricordo di scrivere nei commenti tutte le cose che ci sono Tutte le parole che ho detto che non dovevo dire Oh no Oh no sì no sì Oh mio dio no Oh mio dio no Oh questa qua Oh se vuoi posso fare una cosa Faccio la tecnica di FabiJ Qual è la tecnica di FabiJ? Dimmi Eh vado fino al fondo Tolgo tutto Così quando cadono Muoiono istantaneamente Sì ok ma posso morire anch'io così scusa Eh ma tu rimani su così loro cadono prima Eh Boh non lo so Potrebbe essere un'arma a doppio taglio in realtà Mh mannaggia No ecco stiamo cadendo Sto cadendo Aiuto Aiuto ti prego non cadere Ok Però possiamo farcela assolutamente Io Ecco Sono caduto È troppo difficile Sì sì infatti sono caduto Infatti No brutto bastiandor Oh io sono ancora su Bravo complimenti Veramente tanto bravo Molto bravo Io infatti Adesso non sono più su Oh no Sono caduto Sono caduto troppo Aiuto Sono tipo sul giallo Ma tipo in fondo Allora amici Ti cado in testa Come come mi cadete Mario vai giù Vai come ti permetti Brutto Pirillo Che non sei altro No Sono cattuto No schifoso Raga sto cadendo Sto cadendo Sto cadendo troppo Ah Da te manca Solo l'ultima strada Davvero? Sava in via Aiuto Raga Raga vi prego Vi prego Non ce la faccio Questa Questa ansia Non ce la posso Non la posso gestire Aiuto raga Non sei nel viola? Eh sì Sono Oh vai via Vai via Porca miseria Porca miseria No Che è successo? Raga 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 Ci stiamo provando E ci stiamo provando Ma non è detto Che ce la facciamo Vai Schifoso No Sono morto Vediamo Ho vinto Hai vinto Bravo Mario Il vincito era Potremmo dire Che abbiamo vinto Ne Cosa sta succedendo? Eh La mia schermata Ma io non sto più sentendo niente Che cosa succede? Sei caduto? E poi sei spawnato sopra Tii Che cosa succede? Giuseppe 230 Per Giuseppe долларов 中國